Ciao a tutti e benvenuti da Tina e Pippo e Liu. Oggi abbiamo un ospite speciale, ovvero... Michelangelo! Cioè, guardate, mi è venuto a trovare Michelangelo. Scopriamo un po' chi è questo Michelangelo, va? Ta-da! E' Pippo! Bellissimo, noi ho questa benda bellissima di... di Miki. E poi guardate anche che cosa ha, ecco è tornato, la... Megliotto di Off! Cioè, proprio lui ama le tartarughe ninja e allora oggi vi farò vedere un giocattolo delle tartarughe ninja. Ovvero, la moto di Off! Bravissimo, Pippo! Voi delle turtles avete già visto due bustine, due blind bag, bellissime. E poi... è qui della rivista. Sì, delle riviste, tantissime cose, perché Pippo adora queste tartarughe. E oggi invece vi volevamo recensire un giocattolo che abbiamo preso. E guardate un po'... Molto speciale. Molto speciale perché è un po' particolare. Infatti ci sono due veicoli in uno. Adesso capirete meglio di che cosa si tratta. Allora, eccole qui, bellissime. Qua c'è la... ci sono tutte e quattro le tartarughe. Ma poi qui c'è scritto, l'ha scritto ovviamente. Sì, Teenage Mutant Ninja Turtles. E qui c'è... Sì, qua c'è scritto... Trade the cycle with Tank Commander Raph. Praticamente qua c'è il personaggino di Raph, che è il preferito di Pippo, vero? Mh-mh. E poi qua c'è... ci sono due veicoli in uno, come c'è scritto qua. Praticamente è composto da una moto e poi da questo carro armato qua dietro. E appunto lo sfondo a... il guscio delle taccato. Sì, bellissimo. Qua infatti c'è scritto Try Me, ovvero provami. Toccando, cioè premendo qua infatti, come potete vedere, si alza. Adesso è un po' a tutti questi fili, quindi non si vede bene. Quindi adesso lo togliamo, vero Pippo? Togliamo prima il veicolo. Ah sì, la marca, vediamola insieme. Aspetta Pippo. Sotto è Giochi Preziosi. Bravissimo Pippo, la marca è Giochi Preziosi. Ok, vai. Togli bene bene. Ah, vediamo prima dietro. Che bellissimo, guardate. I vettempini. Qua fa vedere come è fatto. Infatti vedete che c'è Raph qua in mezzo. E qua ci dice di premere come abbiamo fatto prima. Qua ci fa vedere altri giochini. Due veicoli in uno, come vi ho detto prima. Ok. E poi qua c'è anche Nickelodeon, che sarebbe il canale dove fanno molto spesso le tartarughe ninja in tv. Ok, Pippo, taglia tutto bene. Io ce l'ho tagliato. Bravo. Ok, infatti come vedete si è staccato dalla moto. Ecco che cosa c'è all'interno. Eccolo qui, quindi il nostro Raph. Poi i due veicoli, la moto e il carro armato. E poi c'è anche un booklet che adesso vediamo. Vediamo un po' cosa fa vedere. Quindi spostiamo. Sì, spostiamo l'altro così. Aspetta un attimino. Aspetta, io so come si apre. Sì, si apre, ecco, così come fa Pippo. A striscia lunga lunga. Vai. Aspetta. Come un poster. Sì. Allora, dietro c'è... Sì, naturalmente in questo booklet fanno vedere tantissimi altri giochi delle tartarughe. E vediamo se c'è quello che abbiamo. Ecco, noi abbiamo questo. Questo qui. E poi ne abbiamo anche un altro. Fateci sapere se volete i video. Comunque noi queste due ce le abbiamo. E poi vediamo se c'è anche l'altro che abbiamo noi. Poi abbiamo anche i personaggi alti, alti, delle tartarughe. Ne abbiamo due. Per esempio... E poi abbiamo anche un'altra macchinina. Comunque se volete i video di questi numerosi giocattoli che abbiamo delle tartarughe ninja, fatecelo sapere, noi li facciamo molto volentieri. Poi, quindi passiamo a Raph, che è veramente bellissimo. Guardate. Ha il casco. Vero che bello, Pippo? Sì. Veramente bellissimo. Si muovono sia le braccia che le gambe. Adesso poi andiamo a mettere... Aspetta, poi qua c'è la moto, bellissima, azzurra, così. Appunto qua poi bisogna premere per farla andare. Adesso poi, dopo vi facciamo vedere. E questo qui, appunto, è il carro armato. Sempre con i toni del blu, del verde e del rosso. Molto, molto carino. Quindi, vai, Pippo, mettiamolo sopra la moto. Guardate. Quindi, Raph, o comunque potete comprare tutti gli altri personaggini da mettere. Sarebbe bello prendere gli altri tre, così possono andarci tutti, sia sulla moto che sul carro armato. Comunque, si mette così in piedi, perché hai blocchi qua. E può andare sia nella moto così, oppure si stacca, sì. Può andare sia qua, sul carro armato. Aspetta, l'ho armato io. Mettilo bene, Pippo. Perché questo lo l'ho acquistato io. Sì, no, è veramente bellissimo. Il prezzo è a 19,90, però ne l'abbiamo preso scontato a 9,90, 95, quindi quasi 10 euro. Un buon affare, perché è veramente un ottimo giochino, molto bello. E poi, invece, si possono mettere uniti, vero, Pippo? Ovvero, così. Questo qui dentro, che esce qua. E infatti, per fare... Aspetta un attivino. Bisogna premere qua, per fare andare su Raph. Guardate che bello. No, dai, non fallo. È bellissimo. Forse si incastra. Vediamo un attimo. Aspetta, togli il Raph un attimo. Ok, si mette così. Sì, sì, massimo è così. Poi, appunto, vi premete qua sopra. Così può fare un po'... Può andare in alto. Adesso lo faccio un po'. Adesso lo suo motore. Poi è bellissimo perché non è un semplice personaggino. Perché anche il casco. Veramente bellissimo. Poi è morbido. È veramente fatto bene questo giochino. Ecco... Ecco qui Raph sul nostro veicolo. Guardate che bello. Vi ha messo Raph posizionato verso di voi. Così vi guarda. Perché infatti anche la testa può girare. Molto carino. Sì, qui poi lo fa funzionare anche come un aeroplano, vero? Ok. Con il suo booklet. Quindi, fateci sapere se vi piace anche a voi questo giochino. Se lo comprate anche voi. Senti questa musicina. Musica di sottofondo. Se volete i video di tutti i nostri giochini che abbiamo a proposito delle tartarughe ninja. Abbiamo dei veicoli, dei personaggi. Naturalmente non ve li possiamo far vedere nella scatola. Comunque appena li tiriamo fuori. Perché da un po' di tempo che ce l'abbiamo. Però sono come nuovi. Veramente. Molto belli. Quindi scriveteci tantissimi commenti. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su. Se sentiamo gli iscriviti, non sto con tanti attiviti. Ricordate questo video con i vostri amici. Se vi è piaciuto questo video. E' questa, è questa, è questa, è questa, è questa bomba. Bravissimo. E quindi saluti da Tina e... E poi vi è piaciuto, ciao, 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 ciao.